non ho capito scusami ma tu stai a fare i numeretti praticamente per domani mattina no non lo so perché è la prima volta che sono venuta io sono passata di qui per vedere perché a me un ragazzo mi ha detto dice guarda vieni qua verso le due e mezza mi ha detto sto ragazzo dice perché sicuramente trovi già i numeretti sotto al sasso qui sotto d'equitalia mi ha detto sotto al sasso a sinistra qua della colonnina d'equitalia no non ci stanno stiamo fa quindi mo aspettiamo che stiappate il tuo numeretto sei le due quindi prendete un numero il primo e il secondo e poi gli altri si deposino sotto al sassolino poi domani mattina chi arriva per primo c'è gente che arriva magari alle sei così e si prende gli altri quando mettono quelli effettivi visto che apre le otto quindi non è che c'è la ressa ognuno c'ha il biglietto suo è una prenotazione comunque per le radiazioni a un certo punto loro cominciano a distribuire i modelli e vi mandano tutti a casa no non hai capito forse non ti mi sono spiegata io è la terza volta che vengo qui stamattina no 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 io perché sto qua stanotte perché io questa mattina dopo la terza volta che sono venuta qui alle nove i bigliettini della radiazzazione erano già finiti e un ragazzo mi ha detto vieni qua verso le due e mezza perché può darsi che li trovi sotto il sasso della colonnina d'equitalia sulla sinistra così te li puoi prendere e aspetti la fila a me mi sembra io ti dico la verità mi sembrava che stesse a scherzare mi sono messa quasi a ride ecco qui ci troviamo di nuovo di fronte alla sede di aguitaglia sud e spa di reale palunzo con gli altri come vedete la gente è stata in fila nella cosa anche si aprono i canicelli vengo io a coperino mi metta nessuno ma qui adesso come funziona cioè io c'ho il numeretto sono venuta oggi alle due a ritirarlo quindi adesso qui come funziona che bisogna adesso funziona che quando arriva l'usciere apre così credo gli si dà il numero e poi fa entrare dieci persone alla volta ma quindi l'usciere sono loro che organizzano questa cosa dei numeretti ma poi c'è scritto che non bisogna farla perché mi sembrava un concetto cioè quindi sono proprio loro di un'italia che la organizzano questa cosa di con qualcuno che lascia i numeri la notte perché io sono venuta qui alle due e mezza alle due scusa addirittura alle due a prendere il numeretto e c'erano delle ragazze che lo distribuivano e poi hanno lasciato il numeretto sotto il sasso scusate eh che c'ho il numero eh ah ci stanno i numeri ok meno male no perché sennò c'è eh eh c'è eh eh c'è guardiamo un vento da penso tu eh ma c'è quattro no aspettate che io so il due no no io so il due oh scusate io sono il due il due ecco permesso sì